Salve, siamo arrivati alla diciottesima edizione del manifestazione Un canto per la vita. È una manifestazione che quest'anno si svolgerà in maniera davvero particolare e mi auguro che sia l'unica manifestazione che faremo registrando. Normalmente andiamo al Palazzo del Popolo, abbiamo la presenza del pubblico, abbiamo i nostri artisti orvietani che si esibiscono davanti a una folta schiera di orvietani e turisti. Lo scopo della manifestazione è quello lì, di valorizzare gli artisti, musicisti e coristi che sono presenti nella nostra città e di raccogliere offerte dalle persone che partecipano alla manifestazione per poter portare avanti i nostri service. Come detto, quest'anno purtroppo la situazione sanitaria ci costringe a rimanere nel chiuso del Carmine e ci siamo posti il problema di come fare ugualmente il nostro canto per la vita. Il tutto ce l'ha risolto il presidente della scuola di musica Adriano Casasole di Orvieto, il quale si è prestato non solo come artista ma anche come regista, montatore della manifestazione. Perché? Perché abbiamo pensato che mai come in quest'anno era importante divulgare una speranza gioiosa attraverso la musica degli artisti orvietani. La manifestazione, come ho detto, aveva anche lo scopo di raccogliere delle offerte per poter portare avanti i nostri service. Ovviamente quest'anno le offerte saranno soltanto quelle dell'autotassazione dei nostri soci mentre le offerte che normalmente generosamente ci venivano dai presenti cittadini orvietani e numerosi turisti verranno a mancare e saranno destinate alla nuova povertà, al service nuove povertà. Noi abbiamo iniziato sin dal mese di ottobre con la collaborazione preziosissima dei supermercati PAM del Centro Storico e con l'enorme generosità che abbiamo riscontrato tra i nostri concittadini con la collaborazione del Banco Alimentare Umbro circa due tonnellate di genere alimentari ad oggi che abbiamo distribuito tramite le parrocchie del comprensorio orvietano perché in questa maniera abbiamo raggiunto il più elevato numero di persone e di famiglie bisognose e abbiamo tutelato la privacy, la riservatezza che si deve in questa dolorosa circostanza di povertà, come dicevo prima, nuova e emergente. Non posso altro che a questo punto tacere, lasciare la parola alle canzoni e alle musiche ringraziando sentitamente il Gabriele Anselmi, come ho già fatto all'inizio, il maestro Cambri, il maestro Graziani, il maestro Ladi e Patrizio Dominici, nonché il maestro Stefano Benini che quest'anno partecipa con il suo gruppo vocale. Un saluto a tutti e un augurio di buon ascolto. a tutti e un augurio di buon ascolto. Cari amici, un buon momento musicale a tutti. Abbiamo iniziato questa nostra partecipazione all'evento tradizionale del Lions Club di Orvieto, Un canto per la vita, ricordando la simpatia della musica solare, la musica di Raul Casadei. Lo abbiamo fatto perché vogliamo, con questa nostra partecipazione, ringraziamo il presidente Paolo Calistri del Lions Club di Orvieto e tutto il club di Orvieto per la perseveranza e la volontà di voler organizzare anche per quest'anno l'evento Un canto per la vita. La scuola di musica c'è con questo contributo musicalmente simpatico che vuole in qualche modo diffondere il sorriso e la voglia di ricominciare. Come potete insomma vedere questo evento insieme ai nostri amici Cerris è online ma speriamo presto di poter ritornare a fare musica davanti al nostro carissimo pubblico. Abbiamo anche scelto una formazione particolare perché dovete... questo è stato un anno insomma per noi particolare per la scuola di musica perché diciamo continuare la nostra attività non è stato semplice ma l'abbiamo fatto con lo spirito proprio che è quello del canto della vita ovvero quello di continuare, di essere sempre positivi. E noi un messaggio di positività in questo periodo invernale l'abbiamo proprio ricevuto da un nostro amico da un nostro amico che è Patrizio Dominici che è qui con noi oggi perché durante questo periodo strano definiamolo così, un giorno è venuto a scuola di musica e ci ha donato un'immensità di metodi e libri per ragazzi e questo forse per noi è il simbolo proprio di questo momento che nella difficoltà c'è sempre il cuore delle persone che va oltre le difficoltà. E quindi insieme a Patrizio, insieme al maestro Alessandro Graziani insieme al maestro Lamberto Ladi e insieme al maestro Riccardo Cambri cercheremo di farvi ascoltare alcuni brani simpatici con la voglia di sorridere e soprattutto di cantare la vita insieme a tutti voi e a tutti noi. Grazie al Lions Club, grazie al presidente Calistri condividiamo il palco con gli amici di Cerris e se ne siamo estremamente contenti quindi buona musica e buona ripresa a tutti. Grazie 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 a tutti. Perché ti ho sentito entrare, ma volevo sparire, invece ti ho visto mirare, invece ti ho visto sparare. A quell'anima che hai detto che io non ho, il cuore si fa leggero come l'aria prima che il tempo ti vorrei sollevare. Vivo re, consolare, vivo re, sollevare. Vivo re, ritrova, ti vorrei con te. Vorrei viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare. Quando persi sotto tante stelle, ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore. Stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. Vivo re, consolare. 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 Ritorvate. Vorrei viaggiare su ali di carta con te, sapere inventare, sentire il vento che soffia e non nasconderci se ci fa spostare quando persi sotto tante stelle. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare, cos'è l'amore, stringiamoci più forte ancora, teniamoci vicino al cuore. In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla tv da non c'è chi c'ha, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai, non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco o te ne porti, porti. Mi chiedevi come va, come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallotola nel petto. Prendi tutta la tua carità, menti a casa ma lo sai che lo sa, su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai, non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. E' difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, ho capito in un secondo che tu da me volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi, mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Voladi, voladi, Habibi Talena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Voladi, voladi, Habibi sembrava fiera. La voglia, la voglia, la voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. E' difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio, lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa, ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Oggi la gente ti giudica, per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio, scopri davvero chi sei. Credo nei esseri umani, credo nei esseri umani, credo nei esseri umani, credo nei esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti, uguale a te. Ma che splendore che sei, nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince e vincerà. Grazie.